E vabbè ma dovevo prendere l'altro telefono perché siete non in diretta ma registro e poi vado in differita Ma certo, ok E' normale Naturalmente è così perché è la ragazza che è bellissima, perché è Sofia che è bellissima Ma certo, ma noi siamo tutti bellissimi, anche tu sei bellissima, sei la mia attrice preferita del cuore Sì, sono tutti preferita, guarda Stefano Mamma mia, Sofia Mamma mia, stupenda No, ma sei stupenda, stupenda Mi lasci a bocca aperta, evviva le sorelle delle spose, la sorella delle spose delle sorelle delle spose Ciao Mamma, ciao Evviva, ciao E anche la mamma qui, siete stupende Complimenti Mamma mia, fai, vai, 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 vai Evviva, un abbraccio a tutti, ciao a tutti, ciao ciao Siete, vabbè ma qui è una cosa alla grande Ma che belle, ma che belle Ciao a tutti, ciao Siete bellissime Adesso ci saluto, un abbraccio Ciao a tutti, ciao 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 a tutti Ciao a tutti Grazie.